Nell'incanto di un giardino di agosto, sua dente di sospiri, voglia di sguardi indiscreti, di risa leggere. Sono i versi intensi della poetessa scomparsa Maura Pacella Ocoluccia, recitati dall'attrice regista Rosaria Ricchiuto ad intrecciare Frescura d'Agosto e Chiarore di Luna, nella serata che Tricasa ha voluto dedicare a personalità definite all'orgoglio e alla misura della capacità del popolo salentino di voler crescere. Una tradizione che ritorna, il premio Turismagna, voluto dall'associazione Vito Raeli che nel nome riprende uno dei simboli più importanti della città tricasina, la torre orsiniana e i suoi finissimi graffiti di prigionieri cinquecenteschi. È un po' come riprendere da lì il racconto di questa terra, plasmarlo anche attraverso un premio che ha l'ambizione di voler avere un valore educativo, riconoscendo il merito di chi continua a coltivare radici profonde in una società liquida e senza punti di riferimento. Un premio che non è soltanto per una carriera conclusa, ma soprattutto per un futuro che si apre. Questo qua è l'ottica con cui ci muoviamo. Un premio che ha insegnato in passato personalità come il cardinale Giovanni Panico e Don Tonino Bello e che nella delicata cornice della tenuta Ianova ha segnato la Turismagna agli imprenditori Giannindino, Pietro De Francesco, al presidente dell'ASCLA Giuseppe Negro e al dentista Oronzo Stefanelli, oltre che a Camillo Placì, allenatore della squadra di pallavolo femminile in A1 del Modena e della Nazionale Bulghera. Ma protagonista è stato soprattutto l'impegno del giornalismo autentico, come quello di Carlo Bollino, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno e con alle spalle una lunga esperienza da cronista sui quotidiani leccesi, corrispondente estero nei Balcani per l'Ansa, inviato di guerra in Somalia, Jugoslavia e Afghanistan. Un impegno maggiore al quale io mi sento richiamato questa sera, qui tra la mia gente, perché ovviamente tutti voi, molti di voi hanno lavorato con me quando ero piccolo, c'è Paolo Pagliaro lì al tavolo, che so che anche lui è un premiato, ho cominciato a lavorare con lui nelle radio 30 anni fa, 35 anni fa, insomma eravamo veramente tutti e due bambini. Sentivo parlare di questo progetto, questa nuova passione della regione Salento, sono cose delle quali sentiremo parlare ancora a lungo, la Gazzetta del Mezzogiorno comunque darà voce anche a queste idee, con l'obiettivo di difendere gli interessi di tutti e specialmente dei nostri, visto che ci siamo. Un cammino dunque è quello di Bollino che si è affiancato a quello di un altro premiato, il presidente del gruppo Mixer Media Paolo Pagliaro, alla storia di un'informazione militante sul territorio, che le tv e le radio del gruppo sono riuscite a scrivere giorno dopo giorno sul campo, correndo rischi, ma senza risparmiarsi mai. Così come le nostre trasmissioni di approfondimento, di inchiesta, l'Indiano, che anche qui a Tricasa ha svolto un ruolo importantissimo, un ruolo per smascherare probabilmente delle cose che non vanno, sulla pelle della gente, sulla pelle dei lavoratori. E qui si innesta un altro nostro impegno molto forte, che è quello delle dieci battaglie di Telerama. I nostri giornalisti, sentinelle del territorio, che presidiano con grinta, determinazione, insieme agli operatori, che proprio la scorsa settimana hanno subito un'aggressione, perché tenacemente sono andate ancora una volta a registrare un caso di illegalità. La Paluna del Conte è un parco a Torre Lapillo. E lì si perpetuava uno scempio ecologico. E lì c'era Telerama. E lì c'erano le truppe di Telerama. Andare oltre la cronaca e denunciare, perché anche questo significa amare questa terra. Sorreggere la sua economia con la campagna Salento-Doc, squarciare il velo dell'indifferenza sull'anello debole della sua società con quel amico progetto Salento Solidarietà. E rilanciare ora un'altra sfida, nata 63 anni fa proprio dalla lungimiranza di un tricasino, Giuseppe Codacci Pisanelli, che non ha trovato ascolto nell'Assemblea Costituente e che ora vuole riprendere in mano le redini della sua storia. Come sarebbe stato questo territorio se fosse stata 63 anni fa una regione? L'autostrada si sarebbe fermata a Bari, secondo voi? E il doppio binario? Avremmo sofferto 40 anni per poterla avere finalmente con l'elettrificazione? E la strada a Bari-Ilecce? Si sarebbe voluto tanto tempo per riuscire ad avere una quarta, quattro corsie e tanti morti? E ancora oggi, la 275, ancora oggi arrivare qui a Tricase è un viaggio incredibile. Un movimento dal basso, quello della regione Salento, che domani a Brindisi si costituirà ufficialmente con atto notarile e che chiederà soprattutto di riflettere. Noi chiederemo ai consigli comunali dei comuni delle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto di deliberare a favore di un referendum e poi che siano i cittadini salentini a decidere se vogliono essere salentini o se vogliono essere ancora una volta pugliesi di serie B. Ecco, è come chiedere di continuare a scrivere quei graffiti della Turismagna e scegliere di farlo o ancora da prigionieri che sanno a guardare dalla finestra quello che accade in questa terra o da protagonisti veri del suo riscatto.